Siamo arrivati allo sport e allora verso la partita Foggia-Pescara che è in programma domani alle 20.30 per tutte le novità. Andiamo a sentire in diretta il nostro Enrico Giancarli, poco fa la conferenza stampa del Pescara con le parole dell'allenatore Colombo. Vediamo cosa si è detto. Enrico, mi senti? Buongiorno. Ciao Marina, buon pomeriggio, ben trovati tutti in diretta dalle KK Hotel dove il tecnico Alberto Colombo ha terminato da poco la conferenza stampa in vista del match di domani inizio alle 20.30 tra Foggia e Pescara. Iniziamo subito da una bella notizia che è anche una sorpresa perché tra i convocati ci sarà anche Luca Crecco che sta migliorando sensibilmente e si aggregherà al gruppo. C'è invece ancora da attendere per Aloi. Per Plizzari buone notizie, il portiere sarà a disposizione, giocherà titolare il match di domani contro il Foggia dell'ex Eugenio Durzi. Per la formazione Bobben ha vinto il ballottaggio con Ingrosso in difesa, resta il dubbio in mediana con Krasia e Palmiero a contendersi una maglia. I passaggi chiave della conferenza stampa del tecnico Alberto Colombo. Li ascoltiamo insieme. Buongiorno mister, le mie prime due considerazioni sono uno intanto su come sta la squadra, eventuali indisponibili oltre a Crecco, Aloi e Pellacani. Lei ha sempre detto che il blasone non conta, in campo vanno le squadre. Il Foggia nonostante il blasone ha dimostrato di avere delle problematiche in questo inizio campionato. Pescara parte leggermente favorito? Grazie. Allora, la prima domanda sul come sta il gruppo. Sta abbastanza bene, ha fatto una buona settimana, anche se poi dopo la partita è una storia a sé. Per episodi, per pressione psicologica, per tante cose. Quindi però sono soddisfatto della settimana che la squadra ha svolto. C'è una piacevole notizia, che è quella di Crecco, che iniziamo a portarlo con noi. Quindi sicuramente è ancora lontano dalla miglior condizione, ma è il primo passo verso una normalizzazione che vogliamo dargli e che lui deve trovare. Quindi provocato? Sì. Per cui questo è sicuramente un ritorno molto gradito da parte dello staff e della squadra. La seconda è partito male il Foggia come risultati. Io ho visto per esempio la partita che è stata data in diretta su Rai Sport contro il Picerno. Aveva fatto 20 minuti o fino al gol del Picerno del vantaggio con una fase offensiva molto ben marcata e dove aveva creato diverse opportunità. Ho rivisto la partita con il Latina e anche lì degli episodi l'hanno portata a favore del Latina, ma la pressione offensiva era costante. Quindi sicuramente diciamo che per quanto è stata costruita, per come è stata costruita, magari uno poteva aspettarsi qualcosa di più. Ma il campionato regala queste incertezze, queste difficoltà a chiunque. Per cui non mi sorprende nulla ormai. Il Catanzaro va a Cerignola, ma si tratta di una Cerignola, di una neopromossa che ha fatto un mercato. Se poi andiamo a vedere i nomi, i nomi sono importanti. Ecco dove noi ci soffermiamo troppo in modo allegro e leggero. Cioè sul fatto che magari una squadra abbia più o meno una storia alle spalle e non si guarda invece il contenuto. Sappiamo che magari il Foggia ha qualche difficoltà, ma ha dei punti di forza da non sottovalutare. Ha un attacco con diverse possibilità, potrebbe giocare con un sistema piuttosto che con un altro. Quindi dobbiamo preparare più soluzioni difensive, in base a come loro giocheranno, con il dovuto rispetto, sapendo che poi dobbiamo mettere in campo la giusta personalità in un ambiente tra i più caldi della categoria. Quindi lo Zaccheria, secondo me, sarà infuocato per noi domani. Ci sarà anche l'assenza del nostro pubblico, che è per noi un fattore determinante. Però alla fine siamo 11 contro 11 sul campo. Quindi al di là della spinta che sicuramente i giocatori di Boscaglia riceveranno dal proprio pubblico, poi dovremo essere veramente bravi, avere la giusta personalità, il giusto coraggio per fare la nostra partita. Ministro, ci sono sviluppi su Plizzari e delle Monache? A oggi, a ora, ancora no. Stiamo aspettando. Vediamo. Oggi, per esempio, forse più su Plizzari che su delle Monache. Credo che ci sia più apertura per Alessandro che per Marco. Se sarà a disposizione, giocherà? Credo che sia doveroso, anche perché se c'è questa concessione da parte del Club Italia, è quasi un obbligo metterlo in campo. Mi dispiace per Daniele Sommariva, però è chiaro che poi bisogna andare, cioè anche sotto un aspetto politico bisogna comunque capire, Daniele dovrà purtroppo capire, se dovesse succedere una cosa del genere, che tipo di scelta è stata fatta. Bella notizia di Crecco. La condizione invece di Aloy, quando bisogna attendere, secondo lei, affinché possa tornare. Poi, sulle eventuali dubbi di domani, ha fatto una settimana migliore Boben o in grosso dal punto di vista atletico? E in ottica anche rispetto a quello che ha detto sulla pericolosità offensiva del Foggia, potrebbe essere più la partita di Craia, visto che Palmiro non è al 100%. La settimana di tutti è stata positiva. Oggi ho molti dubbi di formazione, proprio perché tanti giocatori hanno fatto bene. E poi c'è da tenere in conto quello che si presuma possa essere un canovaccio tattico per fare delle scelte. Credo che sia in grosso che Boben abbiano dato ottime risposte dal punto di vista fisico. Però non posso neanche dimenticare quello che Mattias ha fatto la settimana scorsa. Quindi ho un debito di riconoscenza nei miei giocatori che danno l'anima e magari vanno oltre anche quello che può essere uno stato fisico che potrebbe metterli anche fuori per qualche settimana rischiando. E Boben l'ha fatto. E quindi potrebbe essere che si è meritato, con la dedizione che ci ha messo a Viterbo per la causa, di essere, visto che si è allenato bene come in grosso, dargli una possibilità dall'inizio. Perché se l'è conquistata, non solo in settimana, ma anche grazie a un comportamento che ha veramente dato tutto quello che aveva per la causa in un momento di difficoltà. Quindi dubbi ovunque perché veramente la squadra si è allenata bene. Queste sono dunque le parole del tecnico Colombo. Marina, ricordo il match. Domani ore 20 e 30 Foggia-Pescara, partita importantissima. Se non ci sono delle domande, io ti restituisco la linea con la collaborazione tecnica di Diego Martelli. Grazie, grazie Enrico Giancarli.